Buon pomeriggio a tutti, siamo qua presso il campo rome della mezza terme, a uno alla volta stiamo andando a votare al presidente Conte perché è una persona che merita di essere al governo perché sa governare, è uno che si occupa dei problemi, quindi voglio dire no, ci sa fare a livello politico, poi altre persone a livello politico sono tutti bravi, ma alla conclusione lui qualcosa di bello ha fatto, noi siamo contenti che entra Conte come presidente perché è uno che ha aiutato, a varie famiglie ha aiutato e se oggi stiamo mangiando qua nel campo e fuori dal campo dobbiamo dire grazie al presidente Conte, siamo contenti, aspettiamo con ansia i risultati, vi auguro di bello presidente, un saluto da tutto il campo rome. Volevo dire prima signor Presidente, così un domani a noi ci fa piacere invitare al presidente Conte all'interno del campo così gli facciamo vedere i veri problemi che ci sono nel campo rome, che è l'unico che può fare i miracoli, ai cittadini è l'unico che secondo noi è un presidente che può fare i miracoli, sarete invitati nel campo qua alla mezzia terme in Calabria per visitare il campo rome, presidente, una buona giornata.